Eccomi con Renato Perrini, consigliere regionale uscente, ricandidato per il Consiglio regionale di Puglia con Fratelli d'Italia. Devo dire che i miei rapporti con Perrini, perché sì ci sono le interviste, il copione, però poi ci sono dei rapporti umani, delle cose che vanno dette. Devo dire che all'inizio i rapporti tra me e Renato Perrini non furono dei migliori, perché spesso non riuscivamo a intervistarlo, perché c'era stato più di qualche equivoco. Però devo dire che conoscendo la persona, al di là del colore politico, delle candidature e quant'altro, ho trovato una persona molto ma molto semplice, molto ma molto umana. Beh, stamattina quando abbiamo concordato per fare questa intervista e altre sui temi fondamentali del territorio, mi sarei aspettato di trovarlo come magari altri consiglieri, col macchinone, col codazzo del suo seguito. Invece ho trovato una persona in maglietta semplice. Non voglio giudicare i miei colleghi, ma questo è il mio modo di fare, ma perché la politica non deve essere più vista come una cosa lontana. Noi siamo espressioni del popolo, dobbiamo essere parte integrante nel popolo, perché certe volte anche l'abbigliamento, anche il modo di fare, allontaniamo le persone. Io sono così perché sono così, ma non è che mi sforzo a diventare quello che sono. Ognuno ha uno stile proprio di percorrere il percorso politico. Ecco, come sta andando questa campagna elettorale? Una campagna molto movimentata, però devo dire che Renato Perini si è sempre mosso, anche in tempi non sospetti, non solo ora che ci sono le elezioni. Più volte l'ho incontrato, per esempio in strutture sanitarie, perché c'erano delle problematiche rispetto alle quali era stato chiamato e Perini era intervenuto. Cioè, ho notato molto movimento nell'attività di Perini. E' una campagna elettorale strana. Sinceramente direi che a me le campagne elettorale non mi piacciono. Non mi piacciono perché non sono abituato a fare promesse, perché in tanti, purtroppo capisco, c'è una problematica lavorativa, dove invito a tanti ragazzi, a tanti genitori, a non farsi illudere delle promesse di queste settimane. Perché posti di lavoro bisogna crearle, perché viviamo in un momento molto, ma molto particolare. E mi noto spesso che l'incontro che faccio, l'ultima cosa che dice il genitore, una mano per il proprio figlio. E questa è una cosa che mi mette in difficoltà enorme. Purtroppo io, che sono chiaro e schietto, il 99% delle volte l'affermazione è sempre negativa. La politica deve creare posti di lavoro. La politica per me è futuro. La politica è che dobbiamo fare infrastrutture, dobbiamo cercare di migliorare il territorio per fare cose che arrivano all'imprenditore che investono e cominciano a fare l'assunzione. Per me quella è la politica. Non è la politica di stare a presa in un'azienda due mesi, tre mesi, un lavoro saltuale. Io, quello che mi impegnerò nei prossimi anni... Lei è un imprenditore, conosce le dinamiche dell'occupazione. Ma io conosco anche le dinamiche dell'operaio, perché ho fatto l'operaio nell'Ilva e so benissimo la fame e le problematiche dell'Ilva, della problematica dell'operaio e sono anche imprenditore e so le difficoltà di imprenditore, ecco perché non sono abituato a illudere un momento così particolare.